Così giochi a fare il killer. Prima stavo con suo padre. Morì che aveva sette anni. Come sei finita? Finita a essere quella che sono? Poi ho conosciuto Mikey e suo padre. Ho trovato qualcos'altro per cui ero disposta a uccidere. E voglio che mia moglie... ...sparisca dalla faccia della terra. Aspetta, non farlo! Io so chi è lei che stai combinando, Rose. Dov'è lei? Se mi è andata la mia bambina. Non mi dire stronzate! Sento tanto la sua mancanza. Credo che ci sia una ragione per cui ti ho incontrata in questo preciso momento della mia vita. Fammi finire il lavoro per cui siamo stati pagati. Giuro che te ne pentirai. Bastardo figlio di puttana! Dov'è Clayton? So cos'è successo a sua moglie. Il mio cliente è un po' nervoso. Non c'è problema. Togli! Toglimi le mani di Toss! E tu così mi riparli. È un maschio! Il tuo figlio. Sentirsi protetti è lusinghiero. Tutto cammini! Grazie a tutti.